La sconfitta La sconfitta Ci dà la possibilità di poterci lavorare e secondo me abbiamo già fatto meglio rispetto a Prato perché comunque quando è alzato, quando sei andato a giocare nell'uno contro uno anche in campo aperto con giocatori più veloci, quando sei stato costretto a dover andare a giocare al limite delle tue possibilità rischiando, hai anche recuperato pallone, hai anche costretto l'avversario a sbagliare, hai anche costretto l'avversario a difendersi in 7-8 dentro l'area di rigore, non sei stato in grado di trovare la zampata vincente che ti poteva permettere di trovare il gol e di riaprire la partita perché in quel momento lì con l'olbia che aveva la necessità di vincere sarebbe stata una gara come aveva un pochettino pronosticato all'inizio, dove ci sarebbe stata un'azione di qua, un'azione di là e dove probabilmente le caratteristiche di qualche giocatore nostro potevano anche essere esaltate. Grazie